anche vedere anche tu eccomi qua ciao ragazze ciao a tutte e a tutti buongiorno mettiamo la nostra spesa di oggi quanto ne abbiamo tutto noi modi oggi abbiamo quattro e sarà quattro sì che non c'è nello scontrino ci sarà più 4 12 2 24 giusto e la spesa che abbiamo fatto iniziamo allora allora iniziamo a altura due bottiglie 72 centesimi sono queste poi abbiamo carta igienica carta igienica quanti ruotoli sono due carta igienica 10 ruotoli pure ovatta di cellulosa c'è abbastanza carossa 3 e 15 poi trekker bianco faccio vedere eccoli qua 2 euro e 65 poi e pitt e manico che sarebbe la spazzola si 4 e non basta questo è il cappello molto forte eccolo qua questa è la mia spazzola che deve essere molto buona tra l'altro ce l'avevo quella piccola oggi l'ho ripresa di nuovo eccola qua questa è la spazzola yoga era un litro mi sembra che sia un litro sì sì yoga per allora 2 e 19 già costano abbastanza tutto è un carito un carito molto molto caldo sì questo è di stare sì questo tipo di grano sono tipo il 285 possibile sì 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 poi abbiamo patate rustiche dove sono 259 quanto c'è noi 600 grammi sì sì 600 grammi 600 grammi sì eccoli qua sono ottime a farle nella nella pentola nella pentola nella pentola nell'area di tricci 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 d'aria e bianco ci sono trovata la stella 325 questi sono buoni ne abbiamo presi a poi bocconcini vero e sale 1 euro e 74 sono questi vedete al chilo sono sì al chilo sono al chilogrammi 9 99 quindi diciamo ancora non abbiamo assaggiato diciamo che in un posto mi hanno chiesto 15 al chilo al chilo in un forno mi hanno chiesto non un forno una panetteria mi hanno chiesto addirittura prima le ho comprate 8 poi la vostra l'altra volta dopo mi hanno chiesto a 15 no non li voglio per niente allora panna da cucina di acqua panna da cucina arborea se 100 per cento latte saldo l'isola felice delle mucche poverine allora qui ce n'è quanti grammi ce n'è dove 200 ml si è costata 1 e 79 abbastanza poi uova fuori allevamento a terra 1 e 99 eccoli qua medie speriamo che siano medie tante volte c'è scritto media nelle uova non parlo di spara però tante volte dice media e sono piccolissimi merendine ferrero 399 centesimi quanto ce n'è quanto ce n'è quanto ce n'è 10 pezzi si si formaggio grattugiato me lo dai per favore quanto lo posso grana padano grattugiato allora il chilo è 18 90 peso netto 392 grammi totale 7 e 41 cioè sete euro intero d'arborea questo prendetevi tutti che vi fa bene alle ossa perché il latte intero veramente germino io sono cresciuta in campagna quindi di latte ne intendo allora un litro 2 euro se 19 yogurt al cocco eccolo qua miller miller un euro e 59 poi c'è deser tren caramelo accorti la eccolo quattro pezzi posto a mello passamelo del ser caramelo buone 59 poi c'è deser de spalle fresco quell'altro 95 la cosa non mi quadra l'idea come 70 in tutto quindi qui non ci siamo ragazzi c'è di mettersi con gli occhiali prima allontanarsi dal negozio e vedere perché non è la prima volta che qualcuno mi faccia sbagli sì allora miller e poi c'è despar allora qui dice 2 e 95 meno 1 e 16 quindi simone 70 e qualcosa allora pomodori scefri se non ci c'è n'è 100 grammi l'ortolano provenienza italia sicilia che dovrebbero essere provenienza sicilia 2 e 99 mezzo pilo ce n'è poi le spar ecco despar fresco cos'è non so despar fresco solo a questo quello l'ho già detto fresco 1 e 49 meno 70 allora totale 54 e 16 per oggi è tutto se non ci vediamo ancora buon natale a tutti buon natale nel signore noi noi che dobbiamo tutti migliorare il nostro battesimo è proprio a terra dobbiamo cercare di crescere buon natale arrivederci ciao bacio alla prossima buona spesa a tutte